Grosso passo in avanti verso l'approvazione del disegno di legge norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e quanto afferma con soddisfazione Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana, liberi e uguali. In sede di Commissione Congiunta, tra la terza e la sesta, è stato infatti finalmente approvato il DDL volto a contrastare i fenomeni discriminatori nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender. Anche in Puglia dunque, in linea con le indicazioni europee attuate già in altre regioni italiane, verranno adottati provvedimenti a tutela dei diritti delle persone LGBT nei vari ambiti. Nei settori maggiormente sensibili come quello dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità, dell'informazione verranno introdotti programmi ed interventi formativi per prevenire e superare situazioni anche solo potenzialmente discriminatorie. Noi di Sinistra Italiana, liberi e uguali, convinti i sostenitori dell'introduzione di questo strumento legislativo, conclude così Borracino, cogliamo con soddisfazione questo primo traguardo, poiché riteniamo assolutamente drammatica la piaga della società della violenza, anche solo verbale, tra persone. Occorre contrastare in tutti i modi questi fenomeni per donare uguaglianza sociale e pari opportunità a tutti, a prescindere dal proprio orientamento sessuale di identità di genere o di condizione intersessuale e garantire così il diritto all'autodeterminazione.